ciao ragazzi benvenuti facciamo questa challenge è una lotta tra me e Tomino Tomino mi ha chiesto di comprarsi il pacchetto leggende estive ho detto madonna ogni giorno mi fai shoppare 20 euro ogni volta vabbè li la rendo più difficile se vai in creativa con dei ragazzi che vi ho preso a caso nel gruppo se riesci a vincere in creativa gliela shoppo quindi io non tifo per Tomino oggi diciamo che tifo per gli avversari va bene ragazzi ok l'abbiamo fatto vedere questa cosa vi lascio giocare e parlare direttamente Tomino con voi ok vabbè però oggi tra i yard anche tra i yard ma non sento risparmi ho cercato il proprietario del canale sono caduto mi sono fatto un casino di danno certo fermi un attimo non mi sbuonano le armi no se no sarebbe troppo facile perché non mi faceva sparare a me non mi sbuonano le armi posso venire a prenderle? per cui non ci fare? si 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 ah qua è aspetta per una razzina che non so quali sono raga non vuole far cadere raga non vuole far cadere si va ah mo si è rimasto troppo forte vabbè aspetta ok no vale vale vai andate oh finalmente domino siamo riusciti a sbloccare l'audio raga non fate vincere al monimo 261 per piacere mi ricordo il caschetto la più dietro abd non è dietro ma lì no la renegade si e la renegade no non e la renegade nu o lì aaaaaa renegade si e la renegade raga la renegade al minuto 272 se non è la renegade e non f*** f*** o bulle è usciti o bulle no f*** o bucea reabda non faci vincere no no faci vincere per piacere raga per piacermi ti voglio qualcosa nello shop eh si però nello shop di domani perché grande 157 grande grandissimo grazie prego prego dai scuola fate con i miei amici che conoscevano i miei amici problemi 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 tecnici c'è 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 un inno da me non ho più problemi con gmail non mi potete più toccare sì essere lì anonimo dicevi non mi volete più toccare non ti spiace tonino ma perché mi chiamano di tonino tonino e scusate ragazzi è to mino non tonino ho detto tonino eh sì to mino ah to mino eh sì è to mino mi confuso con questo con un nome così un nome così lì e perché mi spiace qua qua sorry brother mi fate vince eh mi parla cosa siamo io non sei che mi hai tirato una splash e guarda mi hai fatto un favore che cosa? mi hai giusto fuori 6, domino? eh si non so qua non si potrebbe far vincere ehm.. si è vero ehm... 20 euro e io non posso non si può.. io non posso spenderlo 20 euro ma non si può... Perci, perci, perci. Perci, perci. Perci. Spogli! Perci, venite! Ma aate, vada, perci! Sorry brother! Ah, mamma. Sorry, bruder. Oh, mamma. Mamma mia, poi sono con i peperoni! Ma chi è che fanno ogni giorno che fanno con le mani venti volte? Che ne so... No, non sono io! Veramente! Fuori brother! Mi sembra di stare su a un fast Ma come fate ad avere tutti quanti le flash? Ditemelo! Io non le ho! Eh, anch'io io! Ma fuori brother! No, la so! Tu sparai gli altri! Ma, ma ferma! Ma ferma la metà! Prima la metà! Siamo ammi che chi non chiamare mi chiamare Mi chiamare! Mi chiamare proprio Alex! Che si viene un altro che ha sparpito! Che si viene un altro che ha sparpito! No! Lo seguo! Dopo! No! E se chiedi di partiremi o no! No! Ho vinto l'ultima mia vita! Prima io non ti stavo sparate! Ho uno! Ho uno! Tanti! Perché ho sparato? Shhh! Ma non ho meglio! Scorri! Oh! Eh scusami! Eh scusami! Non ti voglio far vincere! Mi chiesto che stagli ogni giorno 20 euro! Eh! L'inviglia è un brutta bestia! Enrico! E anche! Non vengono! Vengono con il mio Tomino! Tomino! Tomino Come si chiama? Tomino! Tommino! Tommino! Toma tomà! In spagnolo prendere! Si! Aia! Ti dobbiamo dare qualcosa per... Per non scordarti! Eh si! La pillola della memoria! Che c'è? grazie grazie che non mi ha chiamato subito e mi ha dato 50 capi e 3 non arriva il canone no no 5 10 arriviamo a partita come dire ora io le stesse in realtà non aspettate mi devo mettere bene l'armi ecco possiamo andare io sto già andando dal domino beh non so parlare ciao sei arrivato direttamente tu da me grazie basta faccio così arrivo ma io sono non sono perché mi fa render pompa ho avuto paura no io sono la schiene quello lì come alex salga perché io mi chiamo anonimo ok non ti sparo però tu non sparare a me lasciami la cesta grazie ti muovi di fermo non ti ho sparato io devo andare via e raga cosa vogliamo fare vogliamo fare di solito in live usiamo questa questa come mi chiamo mi tocca non ti voglio prendere il pacchettino ehi no io ti inseguo perché ti ho lasciato 1 hit e 1 hit e non ti lancio che mi chiamo bene E' morto, è morto, è morto, grazie E' morto No Villo, ce l'hai? Anonimo Anonimo, 260 Villo, ce l'hai mira assistita? Raga, tutti contro chi? No, 2-0, 2-0, giuro No, 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 tutti contro di me Non vale però, tutti contro Perché sai? Perché sai? C'ha da un po' che munizioni, ma tutti contro di me? No Mea, se vuoi esci Ma non li 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 Dai, ciao Oh, baby Ciao, ciao Non so Anonimo, 260 Eh, che cosa succede? Oh, via, fuori, fuori Basta Basta sfammare Grazie Che sfambo? Questo l'ho mai sfumato con la mezza Eh, sì, ma alla fine No Grazie, Anonimo Che stavo per uccidere No Abbastanza Ora mi sono fatto le cure E tra poco mi currerò di nuovo Perché Ehm Bene A me sa che non Nooo, ero andato fuori serio Ehm Ma arriva Eh, arriveremo Scusami, ma se io non scioppo Non si euro neanche Scusami Oh, ma l'invidia è brutto il lavoro, eh Purti non farti sciopare Ehm 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 Oh No, dai Domino Vai Domino Vai Domino Oh, questa volta hai avuto fortuna Oh, bravo, bravo Per questa volta hai avuto fortuna A noi ho 527 Io ti fumo Scusami Eh Domino Poverazzo Non si fumo Non si fumo Non si fumo Fateli 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 Tutti e tre Bravo Tutti e tre Bravo Così così io vorrei far vincere Ma sono indeciso Il regalo O far vincere un mio amico No, secondo me Fallo vincere Fallo vincere Fallo vincere Vabbò Ma vedo se farlo vincere No, no, fatelo vincere No, no, fatelo vincere Ma che dà Ma no, ma Ehm No, io non voglio far diventare il povero Ehm Naboroi Non voglio far diventare il povero il povero Naboroi Sì, ma se le potete prendere sempre voi E' mio amico Oh, grazie Naboroi è diventato mio amico Quei tre video Con quei tre video Con quei tre video Sono già diventati amici Quindi ho fatto i due video Chi sa Ma qui non si sa Allora, fatelo vincere Per favore Ma no, ma Per favore Per favore Per favore Per favore Per favore Per favore Ma io non gli voglio far sganzare quei poveri soldi Di tanti soldi Oh, sei unito qua No Ciao 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 Come hai fatto, Tomino? Eh No, no, ma 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 Aspetta, Tomino Aspetta, Tomino Aspetta, Tomino Io ti voglio far vincere Ehm No, allora ti dovrò uccidere Sì Sì No, raga, io non ho fatto vincere nessuno Non avrò pietà No No Sì Sì Godo 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 E non si dice però Godo Godo C'è solo anche questa parte No No C'è solo questa parte Mi fate evitare troppo voi Io non ne posso evitare tutti i giorni per due ore per evitare video No Porco cacchio Ah, va bene Ce ne hai Un po' 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 Oh, io ti lancio la granaccia, eh. Beggine, Bra! Oh! No! Siii, torna pure indietro! no 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 ma come fa ad avere 22 kg scusate abbiamo fatto due round massimo due massimo no dopo di questo c'è il decimo facciamo così si vince il mio scuolo si c'è il mezzo capì si salva ma quasi infatti ecco dai non morire tipo per tab io no io tipo per manuel perché tanto la il prossimo round se ne va no ho fatto scarico da anonimo no io non voglio far vincere nessuna pianta a quest'ora se non puoi avere lui 20 euri cioè se non posso avere io 20 euri non li può avere neanche lui ma sono i suoi soldi però vuoi farti eh si 20 euro si sono i suoi soldi che poi lo guardi la parola bye bye baby no no grazie signorino grazie mi ho fatto entrare proprio dove volevo entrare per segnare per segnare ma tu lo prendi lo spasso? si ma io col ciasco prendo lo spasso infatti ho sbagliato ora ho sbagliato orario bravo hacker che hai 23 kill non ho le hack non ho le hack non ho le hack ah aspetta ho io 23 kill ah ti credo si pagai solo per le hack e ti pare sì ma io non ho le hack credo se fosse lui perchè ha vinto quanti bureau ha vinto un round e io che ho vinto 4 io voglio ancora vincere una buro vincere una buro vincere una buro vincere una buro cipnea fa vincere il povero una buro eh sì ciao il povero tonino tonino ok uccida per me perchè è mio poco ma 44 vai di pronto io non volevo andare no no dai uccidila 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 bravo bravo vai puccia 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 dai tonino puccia con senso della tua ma dai vabbè ora sì bravo grande tonino bravo eаковo bravo tonino bravo tonino bravo Мero bravo tonino puoi però è l'ultimo ma raga bravo io voglio vincere sapete una volta vorrei vincere qualcosa abbassare eh? cosa? diventa malissimo il titano penso si però eh non mi interessa no no aspettate io sono giù di me faccio il mio lavoro sporco e li vengo compensata non ballo dai scusa ma poroi scusa scusa domino torri raga io sto prendendo un'arma che se lo cuore scusa devo voglio vincere domino non tonino ci devo pusciare scusa però non fate vincere ad anonimo 260 dai non però preso regnate tutti quanti contro di me ah scusa scusa però mi devo vincere ma ti chiede vinci no si devo vincere io mi dispiace signori ma questo round lo voglio vincere io per avere la schia qualcosa 800 5 round vinci no erano 10 no erano 6 che ci chi